Ciao, allora Team Infratel, praticamente la società del Mise, ha potenziato praticamente i propri lavori per quanto riguarda cabrare le varie città italiane. Si parla di Team Infratel, ok? Non c'entra nulla OpenFiber, eccetera. Allora, qua dice che praticamente 8 regioni stavano potenziando, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche. Queste si trattano di aree bianche, di intervento diretto da parte di Infratel e non in concessione. Ad oggi sono stati realizzati interventi per 241 comuni, ok? Che poi a fine lavori diventeranno 310, ok? Con l'attivazione di 1600 cabinette. Qua io ti lascio il link per tutto quanto riguarda le informazioni per varie regioni. Può darsi che la tua regione sta facendo il potenziamento di rete, ok? Perciò basta che vai qua e vedi se il tuo comune è nella lista dei lavori. Se non dovesse essere nella lista dei lavori, vai qui. Puoi vedere il piano regionale, puoi andare qua. Piani nazionali delle regioni e ci sono altre informazioni che puoi prendere, ok? Naturalmente se stiamo parlando di team, puoi andare anche a vedere Fresh Fiber. Eccolo qua. Verifica copertura. Metti città, indirizzo e numero e vedi praticamente le varie città che possono essere, che stanno facendo i lavori o sono già coperte. Ok? Con questo tutorial è tutto. Spero di essere stato utile. Iscriviti al mio canale se non l'hai fatto. Commenta il video se hai delle domande, dei consigli eccetera. Magari se vuoi vedere qualche tutorial in particolare. Ok? Altra cosa. Naturalmente i tempi stanno stringendo per quanto riguarda il bonus internet. A giorni, a giorni, sicuramente si saprà a livello definitivo tutti gli operatori che parteciperanno al bando. Io ho già fatto i tutorial. Te li metto qua a fine video. E praticamente già i tre operatori che stanno partecipando. TeamWid e Vodafone. Ok? Manca l'appello FastWeb. FastWeb e qualche altro operatori locale. Va bene? Ciao e al prossimo tutorial.